Benvenuti. Oggi prepariamo un sapone molto invogliente e risfoliante alla rosa. Se questo è il primo video che vedete sui saponi, questi sono i link alle altre video ricette. Guardate prima quelli perché li spiego quali sono gli accorgimenti da avere quando si utilizza la soda caustica. Quindi in questa ricetta utilizziamo olio di oliva, olio di riso, olio di cocco, burro di cacao, burro di carité e poi ho utilizzato anche la cera d'api e la polvere di rosa. Per prima cosa ho preparato con acqua distillata un infuso mettendo queste bustine che sono alla rosa e cascadè e danno all'infuso un bel color rosso. Quando l'infuso è freddo possiamo pesare la quantità che ci serve e versare poi in un ambiente ventilato utilizzando mascherine, guanti, occhiali protettivi, la soda caustica. Lasciamo sciogliere e ci allontaniamo perché comunque si sfruggeranno dei vapori tossici. Quindi lasciamo raffreddare. Nel frattempo invece ci occupiamo degli oli. Quindi per prima cosa sciogliamo la cera d'api in un pentolino a bagnomaria. Invece in una pentola in acero linux inseriamo olio di cocco, olio di riso e olio di oliva e facciamo sciogliere. Versiamo poi un po' di quest'olio caldo all'interno della cera d'api per favorire lo scioglimento. Non appena la cera d'api si scioglieva possiamo inserirla negli oli e mescolare per farla sciogliere completamente. Come ultimo ingrediente utilizzeremo il burro di cacao. Quindi lo dobbiamo pesare e poi inserire agli oli. Ci servirà poi un termometro perché dovremmo assicurarci che la fase dove abbiamo l'acqua infuso e la soda e gli oli abbiano raggiunto l'ingramma di 45 gradi. Nel momento in cui sia l'infuso che gli oli raggiungono i 45 gradi possiamo unirli insieme e mescolare prima con un pacchetto di legno e poi con un mini primer. Fin quando si raggiunge la consistenza chiamata nastro che è questa. Al momento del nastro possiamo aggiungere gli altri ingredienti che sono il burro di carità che abbiamo leggermente sciolto e poi la polvere di rosa e il colorante ocra rosa. Infine ho inserito anche la fragranza e l'isir di rosa sciolta in un cucchiaio di amido di minso. A questo punto possiamo versare il composto in questi stampini in silicone e coperli con pellicola. Per evitare la formazione di bolle d'aria dobbiamo sbattere leggermente i contenitori. In questa fase bisogna sempre utilizzare i guanti perché il sapone è ancora caustico. Dopo aver coperto bene dobbiamo tenere al caldo, quindi anche con delle coperte sopra, per almeno 48 ore. Dopo queste 48 ore invece possiamo sformare il sapone e tagliarlo a fette. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, è un sapone molto emolliente dato che contiene burro di cacao, burro di karité, è esfoliante perché contiene la polvere di rosa ed ha un ottimo profumo di rosa. La ricetta la troverete alla fine del video e vi aspetto al prossimo. Grazie a tutti.